Un patrimonio milionario dissipato in tre anni, conti correnti svuotati, una ventina di immobili venduti a prezzi irrisori, assegni staccati uno dietro l'altro, gioielli e un orologio di valore spariti, una lunga serie di operazioni e cessioni per un valore di diversi milioni di euro, incompatibile però con le condizioni di salute del titolare, un imprenditore tessile di Prato. Dietro denuncia delle figlie, nominate eredi universali alla morte dell'uomo avvenuta lo scorso gennaio, un osteopata di Treviso è stato arrestato per estorsione. L'indagato, finito in manette venerdì scorso, ha tentato di farsi dare 180 mila euro dalle eredi dell'imprenditore, dietro la minaccia di consegnare a una terza persona, ritenuta responsabile di avere approfittato delle precarie condizioni dell'imprenditore, registrazioni, audio e video in grado di dimostrare l'avvenuta circonvenzione di incapace e in questo modo togliere di mezzo le prove utili a recuperare l'eredità. Le registrazioni sono quelle effettuate durante le sedute di fisioterapia a cui l'imprenditore si era sottoposto in un hotel della provincia di Padova nel quale lavora l'osteopata. L'osteopata è stato arrestato dalla Guardia di Finanza nel parcheggio scambiatore vicino alla questura di Prato, proprio mentre avveniva la consegna del denaro. Le due sorelle, all'atto dell'apertura della successione, scoprono che le ricchezze di famiglia non ci sono più e che anzi i conti sono in passivo. L'osteopata chiede denaro per consegnare le registrazioni da cui emerge il ruolo di una terza persona, un approfittatore che pagherebbe la stessa cifra per togliere di mezzo quel materiale, una storia su cui altre indagini sono in corso.